Ancora una volta la comunità di Palermiti ha dimostrato il proprio attaccamento alla sua Vergine della Luce. Ieri in prospicienza della piazza è stato inaugurato un murales che in pratica ricorda il famoso miracolo di Muro Lotto con l'iniziativa di un privato, ma il contributo di altre associazioni presenti sul territorio è stato realizzato questo murales. Ricordiamo che già nel paese vicino alla Chiesa è stato fatto un murales che riguardava sempre le questioni religiose del Comune con il ricordo della donna che trasportava le pietre per la costruzione della Chiesa Matrice. Questo murales invece ricorda proprio il miracolo di Muro Lotto che come si sa, come si ricorderà, fu scoperto questo quadro in località Muro Lotto di Petrizi San Vito, staccato dalla parete, fu messo su un carro trainato dai buoi che dovevano portarlo nella vicina San Vito. Ma i buoi non ne volero sentire, continuarono il loro cammino, attraversarono i paesi di Cenadi, di Olivadi, di Centrache fino ad arrivare a Palermiti dove si sono fermati e hanno consegnato alla fede proprio dei palermitesi l'immagine della Madonna della Luce che poi è diventata una statue e sappiamo quanto è onorata nella cittadina della presila calabrese, catanzarese. Una folta partecipazione di fedeli, molti erano con gli occhi lucidi e parecchi hanno rivolto alla loro Madonna una preghiera ma proprio davvero una bella manifestazione e i complimenti davvero agli organizzatori.